Come è la necessità di recuperare dei pezzi e dei luoghi della città che sono estremamente importanti? Il caso di Villa Ebbe è uno dei casi più rappresentativi perché è un luogo molto simbolico di Napoli, molto importante che riguarda poi anche la storia della nostra città che per una serie di vicende è stato abbandonato, è completamente devastato, cogliamo questa occasione di questa competizione internazionale per poter trovare le risorse e la possibilità di fare un intervento strutturale su un edificio che è fondamentale per Napoli. Il Comune di Napoli aderisce al bando internazionale Reinventing Cities per la valorizzazione di siti pubblici e abbandonati o sottoutilizzati da trasformare in esempi di sostenibilità e resilienza. È una competizione globale promossa da C40, la rete di circa 100 città impegnate nella sfida del cambiamento climatico che collaborano ad un futuro inclusivo, prospero e sostenibile con proposte di riqualificazione dei siti innovative e rispettose dell'ambiente affidate a soggetti privati. L'amministrazione partecipa alla competizione candidando Villa Ebbe a Pizzo Falcone e il centro polifunzionale di Piscinola. Siamo particolarmente contenti di questa iniziativa, abbiamo proposto due siti molto diversi in città, uno nel cuore della città storica e l'altro invece nella città pubblica di più recente formazione. Uno è il sito del Monte Echia dove si trova la Villa Ebbe e l'altro è il polifunzionale di Piscinola nel quartiere di Scampia. Due architetture molto diverse hanno una vocazione territoriale molto diversa, noi abbiamo un programma di rigenerazione generale che è quello del sindaco che è legato alla promozione della cultura e delle attività a favore dei giovani e questo è l'obiettivo generale su entrambi questi siti. Abbiamo una prima fase che scade a settembre in cui c'è una prima ricognizione dell'interesse che attraverso appunto Reinventing Series viene cercato tra team appunto internazionali e a valle diciamo delle manifestazioni di interesse, poi avremo una fase successiva in cui si specificano gli obiettivi del progetto e si chiariscono meglio le regole di ingaggio.